Ciao Mi chiamo Margherita principi ho 16 anni e vengo da pesaro che strumento è quello questo si chiama dulcimer è uno strumento medievale Scozzese in italia non si conosce è più usato in america La musica secondo me è una droga potentissimo fa star bene una medicina L'X Factor il fatto di riuscire ad emozionare le persone di far arrivare qualcosa E io vorrei fare emozionare che cosa canti alleluia di cohen Bocca all'uvo crepi Un attimo che mi tremano le mani tranquillo Tranquillissimo Che trema decisamente Tanto è il giorno più importante della tua vita Stai tranquilla Non ti preoccupare La musica è la musica Giulia Which goes that day is the for the fifth and minor The baffled king You can pose in A lot of magic Your fate was strong, but you need to prove You saw our bedding on the roof Her beauty and the moon and all that you are She tied you to her kitchen chair She broke your throne and she cut your head And from your leaves she died Hallelujah 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 Let it look, let it look, let it look It ain't too Let it look, let it look, let it look 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 Margherita, all'inizio ero in crisi Perché pensavo che non ce l'avresti fatta Poi invece sei uscita alla grandissima E forse sei ancora meglio di quello che ci hai fatto sentire oggi Sei bravo o fortunata, questo non te lo so dire Perché hai 16 anni e quando parli la tua voce da 16 anni Ma quando canti la tua voce è come se avesse un vissuto Che è inspiegabile Complimenti davvero Grazie davvero C'è una voce naturale, c'è la voglia di utilizzarla bene In una ragazza semplice che non ha paura di dire esattamente emozionalmente quello che pensa Tu sei piccola ma potentissima E mi piace un sacco, hai spaccato La pelle tocca Così mi emoziona anch'io La tua voce è totalmente unica Sei molto, molto, molto speciale Grazie Grazie mille! Esatto! Adesso il livello per le ragazze nella tua categoria ha fatto come? Sì! Grazie mille!